Salvatore, in sala trading con un intervento sull'analisi volumetrica, ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, praticamente noi spiegheremo tutta la volume analysis partendo da un concetto molto semplice che è il bid dell'ask quindi dalla volontà istituzionale, dalla volontà istituzionale partiremo capendo come si alza e come si abbassa il mercato ma soprattutto dove sono i supporti delle resistenze dinamiche in funzione dei flussi volumetrici che vengono inseriti al mercato.